Ferragosto, tempo di vacanze ma anche di lavori pubblici. La bassa concentrazione di auto, biciclette e pedoni, assieme al clima caldo e asciutto, sono le condizioni favorevoli per sistemare le strade. Sono così partiti oggi i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Giordani, nel tratto compreso tra stradone farnese e pubblico passeggio, e fino alle 20 di mercoledì 26 saranno adottate, in base all'avanzamento lavori, alcune limitazioni e la viabilità. Nei tratti progressivamente interessati dal cantiere sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e il divieto di circolazione. Sono esclusi dal provvedimento i residenti e i titolari di autorimesse. Analoghe disposizioni anche nel tratto della via compreso tra lo stradone farnese e via San Siro. Avvio domani invece della sesta fase del cantiere per la riqualificazione di via Taverna che durerà circa 20 giorni. I lavori riguarderanno il tratto compreso tra il civico 35 all'altezza di via San Bernardo, che rimane comunque percorribili, e piazza Borgo, dove sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Taverna e il civico 7, con direzione consentita da via Garibaldi e via Campania. In via Castello sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico di marcia da via Le Malta a piazza Borgo, con obbligo di svolta destra per i veicoli non autorizzati all'ingresso in ZTL all'incrocio con via Coglialegna.